intenzioni di guarigione come medita egle a cura di vb terminò la telefonata indossò giubbetto e jeans e uscì per mangiare un gelato che era la sua cena tornò a casa e già aveva deciso cosa fare si mise al computer entrò in facebook e alle persone che le avevano dato l'amicizia e amavano con lei la meditazione scrisse questo messaggio per favore mercoledì 23 alle ore 22 mandiamo insieme intenzioni di guarigione a mio cugino vasile martinez la cui foto è pubblicata nel mio profilo vi prego perché per me è molto importante grazie il luogo dell'emissione è come sempre ovunque egle creò così una batteria mentale con cui i pensieri di molte persone si univano per raggiungere con un'intenzione univoca e quindi con un effetto molto più potente un fine spirituale comune nei giorni successivi egle usò un'altra tecnica di meditazione per influire sullo stato di salute di vasile visualizzò sempre se stessa mentre era distesa sul letto e appoggiata sul gomito con la testa che crollava sulle spalle nella sua abituale posizione di meditazione poi visualizzò che il suo doppio corpo o corpo eterico si elevava fino a uscire dalla stanza e si allontanava dal suo corpo fisico presto la sua figura le apparve irrilevante rispetto a quanto la circondava cominciò a vedere la strada in discesa intorno alla sua casa il suo palazzo poi il suo quartiere si sollevò ancora e la città si spalancò dinanzi a lei e si disperse gradualmente egle si liberava del suo tempo e del suo corpo fisico ora poteva distinguere la pianura i terreni coltivati e salendo ancora le colline il lago il mare all'orizzonte e l'intera provincia non si fermava la regione le regioni limitrofe la sagoma già distinguibile dell'italia andava sempre più su anelando a salire il paese che la ospitava le apparve di un colore cangiante con il blu acuto del mare intorno poi vide il suo paese la romania più saliva e più vedeva sconfinò nell'europa fino alla curvatura del polo sulla sommità non poteva fermarsi non adesso egle era leggerissima l'orizzonte diveniva poco a poco il grande fianco del pianeta e laggiù c'era gente che viveva e che moriva e dove andava in basso uno spazio immenso e un altro spazio inimmaginabile sopra di sé egle si chiese chi moriva raggiungeva quello spazio era già in quello spazio quando viveva nel piano fisico si sentì rispondere che era già in quello spazio prima il cielo le appariva lontanissimo ma ora la circondava e subito la conteneva al termine di questo viaggio velocissimo egle si percepì nel benessere del tutto e si congiunse con il cugino ammalato si trasferì si trasmuto nell'immagine di vasile profondo nella malattia del cugino e si incantò di essere oltre se stessa oltre ciò che si illudeva di essere come sempre oltre la sua mente oltre il suo io quella volta egle fu più certa che se iniziava la meditazione essendo triste confermava la sua tristezza durante la meditazione ma quando la meditazione raggiungeva l'intensità della preghiera non era più lei e non poteva confermare un sentimento che non era più il suo sconfinava allora dolcemente nel cugino malato al termine della meditazione egle ritornava nel piano fisico da uno stato di coscienza che non aveva nulla a che fare con la preghiera della gente comune che vuole attirare su di sé l'attenzione di dio con la ripetizione di parole che non sono le sue la preghiera per egle era ormai di sconoscere se stessa personalizzarsi scoprirsi divinità e non più chiedere a dio e la sua preghiera era tanto più efficace quanto più era disinteressata a riconoscersi preghiera se non otteneva risposte di guarigione era perché meditava per uno sforzo di volontà e non per l'unione con ciò che lei credeva di vino non attraeva il miglioramento del cugino se lo voleva ma se sentiva che aveva già ottenuto ciò che desiderava anche quando dormiva egle usava l'influenza a distanza prima di andare a letto immaginava di continuare nel sonno l'azione di guarigione e che il suo aiuto raggiungeva meglio l'inconscio di vasile se il cugino dormiva o era assopito la zia le confermava il miglioramento del cugino in questa condizione col tempo egle divenne certa che stare nel dormiveglia immaginando la guarigione altrui era un'azione quanto mai potente ma come sempre prima doveva scacciare il suo io senza fare nessuno sforzo per scacciarlo altrimenti il io resisteva e danneggiava l'efficacia della preghiera nel dormiveglia egle era ancora cosciente ma appena in grado di muoversi o aprire gli occhi anche se non desiderava farlo pronunciava mentalmente le parole con cui si rivolgeva a una coscienza superiore che lei ringraziava per la guarigione del cugino che è essenziale ripeterlo egle immaginava già ottenuta nel suo corpo immobile pregava profondamente e non credeva di pregare ma di provare le sensazioni che si hanno pregando la sua preghiera diventava allora ciò che lei chiamava aiutatore astrale una specie di persona metafisica che cospirava con lei per provocare la guarigione di vasile dopo otto mesi di un lavoro così intenso della sua anima egle ritornò in romania e vittoriosamente vide che il cugino era guarito grazie a tutti Grazie a tutti